Questa è Lucignano, uno dei borghi più belli d'Italia e ovviamente siamo in Val di Chiano. Di origine etrusca, Lucignano ebbe il suo splendore nel Medioevo, nel contesto delle lotte tra le città della zona come Firenze, Arezzo, Siena e Perugia. Finché nel 1554, con la battaglia di Scannagallo, Lucignano divenne definitivamente territorio fiorentino. L'influenza senese è quella che è rimasta di più nel patrimonio storico-artistico di Lucignano, come il cassero che si vede dietro le mie spalle, dove ancora sono ben visibili in facciata la balzana senese, simbolo della Repubblica di Siena, e il leone rampante, simbolo del popolo senese. L'area sommitaria di Lucignano, piazza del Tribunale, è il luogo dove nel passato, come nel presente, veniva esercitato il potere civico. Infatti troviamo il comune e accanto la chiesa di San Francesco. Siamo all'interno del palazzo comunale di Lucignano, e qui ha sede il museo di Lucignano. Andiamo a scoprirlo insieme. All'interno della prima sala troviamo alcune tavole di artisti senesi, attivi prevalentemente nel XIV secolo. Come questa tavola di fronte a me, una Madonna con bambino di Francesco di Segna. La particolarità di quest'opera è che, inginocchiata di fronte al soggetto principale, c'è la committente, una donna, vestita di nero perché vedova. E cosa più interessante, siamo in grado di risalire al nome della committente, Monna Muggia, proprio perché è scritto alla base della tavola. Camminando nelle stanze del museo, tra le varie opere che incontriamo, sicuramente degne di nota sono le due tavole attribuite a Luca Signorelli. Una rappresenta il San Francesco che riceve le stimmate, e l'altra una Madonna con bambini. La sala più interessante del museo di Lucignano è sicuramente la sala dell'Udienza, dove alle pareti troviamo ancora numerosi affreschi, sia soggetto religioso, sia soggetto laico, tutti realizzati tra il 1410 e il 1479. Il nome della sala ci fa capire che qui, proprio di fronte all'immagine sacra, avvenissero le sentenze del tribunale. A riguardo è molto interessante il cartiglio che tiene tra le mani un angelo. La frase dice, parla poco, odia assai, guarda il fine di ciò che fai. Ma il protagonista principale della stanza è senza dubbio l'albero di Lucignano, o albero dell'amore. È un esempio raro di reliquiario a forma d'albero, realizzato tra il 1350 e il 1471. Le sue decorazioni con smalti, cristalli di rocca, coralli e miniature lo rendono di raro pregio. Una grande base sorregge il tempietto gotico, sul quale si innesta l'albero vero e proprio, formato da dodici rami, sei per parte, decorate con foglie di vite, piccole teche e medaglioni, su cui sono incastonati rametti di corallo. Accanto al Palazzo Comunale si trova la Chiesa di San Francesco, realizzata nel XIII secolo. La facciata presenta una bicromia orizzontale, fatta in travertino e arenaria. Sempre in travertino è il portale d'ingresso, mentre l'occhio è in arenaria. All'interno della Chiesa, sull'altare principale, troviamo un politico di Luca di Tommè, un artista senese attivo nel XIV secolo. Il soggetto è una Madonna in trono con bambino. E lateralmente vediamo una teoria di Santi. Alle pareti della Chiesa sono numerosi gli affreschi che si possono trovare, prevalentemente attribuiti agli artisti Taddeo di Bartolo e Bartolo di Fredi. Su tutti sicuramente spicca il trionfo della morte. L'affresco risale al XIV secolo ed è stato realizzato, probabilmente, dalla scuola di Bartolo di Fredi. In alto a sinistra è raffigurato il Cristo, che ammonisce l'osservatore e lo invita a meditare sul dramma che si sta svolgendo davanti ai suoi occhi. O tu che leggi, pon cura i colpi di Costei, che uccise me, che son signor di lei. Più in basso, sulla sinistra, sono visibili quattro figure di anziani e indigenti, nei loro abiti dismessi, che desiderano la morte. Sopra questo gruppo un'iscrizione recita Poi che prosperità ci ha lasciati, o morte, medicina d'ogni pena, viene a darci ormai l'ultima scena. Al centro dell'affresco, campeggia la figura della morte, sul suo cavallo nero, armata di arco, di frecce e di una lunga falce filenaia. Il cavallo è disteso in avanti, in una posizione di grande dinamicità che si protende verso il gruppo dei giovani. La criniera al vento e la bocca aperta danno forza a questa immagine che viene accettuata dal movimento dei capelli della morte che volge le spalle agli anziani che la bramano mentre è in procinto di scagliare una freccia contro i giovani. Le frecce, nella credenza popolare, erano spesso associate alla peste poiché simboleggiavano la celerità con la quale questo morbo colpiva le persone. Io non bramo se non di spegner vita e chi mi chiama le più volte schifo, giungendo spesso a chi mi torce il grifo. E ora che lo sai, vieni anche tu in Val di Chiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.